Buongiorno a tutti, sono Simone Facchetti e faccio parte del team di HdMotori, in particolare per quanto riguarda i focus sul design delle automobili che tratteremo in questa giornata al Salone di Torino. Partiamo da Pininfarina, sicuramente avete letto che Pininfarina ormai è di proprietà quasi totalmente indiana, di Mahindra Mahindra. Questa importantissima azienda di design italiano storica, tra le più importanti, è intervenuto su tantissimi aspetti di una serie 7 di precedente generazione, intervenendo accorciandone le proporzioni, accorciandone il telaio, facendola diventare una coupé a due porte dalla linea filante. La Gran Lusso Coupé by Pininfarina è realizzata come pur esercizio di stile, ma è stata presa come ispirazione da BMW per realizzare le attuali BMW, tra cui la nuova serie 7 e la serie 6. Notiamo innanzitutto il classico gomito di Hofmeister, che è la firma stilistica della casa dell'elica. Troviamo soprattutto, in particolare, degli interni fantastici. Si tratta di un puro esercizio di stile, come è stato detto, ma guardate solo i dettagli di queste rifiniture dei pannelli porta, caratterizzati da un legno, che ci hanno riferito essere fossile, migliaia di anni, e poi tutte le cuciture a contrasto. Per quanto riguarda poi il frontale, ci troviamo davanti alla migliore espressione italiana e tedesca messe insieme. Si tratta del classico doppio rene di BMW, i fari Angel Ice interpretati all'ennesima potenza, e dei cerchi di dimensioni generose, addirittura 21 pollici, che lasciano senza fiato. Come al solito, le proporzioni sono quelle delle classiche grandi coupé di BMW, che ci hanno abituato ormai da tanti anni, unite allo stilema di Pininfarina, che si ritrova in ogni singolo dettaglio. Si chiama H2 Speed, l'abbiamo già vista in dettaglio al Salone di Gineva 2016. Si tratta della più importante sperimentazione, anche e soprattutto tecnologica, di Pininfarina per quest'anno. L'H2 Speed è una supercara a idrogeno, altissime prestazioni, 503 cavalli, e un'autonomia che si promette sorprendente. Si tratta di un esercizio di stile, come abbiamo detto, però con una base tecnica fondamentale. Notare i dettagli aerodinamici, che sono la scalfitura all'interno della fiancata, realizzata con un colore a contrasto e con un materiale leggero, composito, e i dettagli in particolare, che sono caratterizzati dall'Aimiello, che caratterizza un po' tutta l'estetica dell'auto. Notare soprattutto l'altezza da terra, bassa, perché si tratta di un'auto che prima è da competizione e poi in un futuro rappresenterà un futuro stradale, anche grazie alla collaborazione con Mahindra.